Costa Ray ha una bellissima e lunga spiaggia. Costa Ray has a beautiful long beach. Ma cosa fare a Costa Ray di sera? But what to do in Costa Ray in the evening? Quali sono le aree più frequentate? What are the most popular areas? Diamo un'occhiata assieme. Let's take a look together. 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 Grazie.